Dopo tante battaglie i petinari sono arrivati dei fondi per le periferie, in questo caso per il quartiere e le rione Fontanelle. In concreto cosa cambia? Ci sono dei miglioramenti da questo punto di vista? Allora, dopo sette anni di battaglie rivendichiamo dei risultati, che sono sicuramente risultati insoddisfacenti, sono briciole perché dopo tanto battagliare in Consiglio regionale siamo riusciti a far sanziare per l'esattezza 4,5 milioni di euro che sono così ripartiti, 2 milioni e 700 mila euro per Fontanelle e il restante per le case Gescal e via Salaravecchia. Problema che sono briciole perché da una ricognizione che abbiamo fatto noi servirebbero solamente 6 milioni di euro solo per Fontanelle, tutta la terra di Prescara avrebbe bisogno di 14 milioni di euro, sono lasciate fuori tutte le altre periferie, sono lasciate fuori via Salaravecchia, lasciate fuori Zanni, Borgo Marino Sulte e tante altre periferie. Problema sicurezza, qui ci sono state occupazioni abusive e solamente gli ultimi giorni hanno fatto 3 occupazioni abusive qui dietro, non sono persone oneste che occupano abusive, sono criminali pluri pregiudicati che stanno sfondando perché si sentono i padroni del territorio. Ho presentato alcune norme, alcune leggi, proposte di leggi in Consiglio regionale per cercare di sfrattare immediatamente gli abusive e non fare entrare più chi ha condanne penali all'interno degli alloggi popolari. Purtroppo non ci sono riuscito, mi hanno bocciato queste proposte, stiamo battagliando per questo, per cercare di ripulire le case popolari. E in ultimo vorrei dire che l'amministratore dell'Ater, che era un incarico gratuito, sapevamo tutti, la politica l'aveva sbandierato come incarico gratuito, da agosto 2017 con una delibera di giunta ai regionali continua a percepire i soldi.